Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Il profondo vortice di Islanda si porta verso l'Europa provocando del maltempo sulla Mitteleuropa, in parte verso la nostra penisola e appunto con nevicate sul comparto settentrionale europeo. Ma entriamo proprio nel particolare dell'Italia. Ancora del maltempo, soprattutto su Friuli Venezia Giulia, le regioni centrali tirreniche e il versante ionico meridionale. E ora il particolare del nord. Come anticipato, piogge sparse soprattutto al nord-est, ancora nevicate sull'arco alpino e dentro sera però tende a migliorare a partire proprio da ovest. Al centro anche qui sulle regioni tirreniche è profondo maltempo con dei fenomeni sparsi. Anche sulla dorsalia appenninica, in parte in estensione sul versante adriatico. Infine al sud, piogge e qualche temporale sul versante ionico di Calabria, Sicilia, parte della Puglia, ma al tempo anche sulla Sardegna. Per il momento è tutto, da Trebi Meteo vi invito a restare aggiornati su questa situazione estremamente evolutiva anche tramite la nuova app per iOS e Android.